A Liverpool, davanti a un locale storico come il Cavern, dove sono esplosi i Beatles. E allora, siamo con... Paolo, da Torino, gruppo Bogianè in Granata. E siamo davanti a un mito, un mito della musica. Noi siamo qui, oggi ce la giochiamo. Loro sono esplosi dentro il Cavern negli anni 50. Chissà Dio che stasera comunque non gli facciamo la festa anche agli inglesi. Bello, non ci temono. Cioè stasera bel clima, ci stiamo divertendo, bevendo con tutti, siamo in tanti. Proprio una bella trasferta. Non ci temono, però onestamente stasera noi comunque ci crediamo. Quindi speriamo poi di venire qua stasera a festeggiarli. Avete avuto contatto con qualche tifoso dell'Ivo, alcuno dell'Everton in città? No, però adesso no. Abbiamo scambiato qualche parola allo stadio, qualcuno fuori. Quanto vi mancano però queste trasferte europee? Ma onestamente devo dire che ci mancano dal punto di vista sportivo, cioè nel senso dei risultati, e questo è indiscutibile. Però la passione c'è sempre, quindi potrebbe essere un amichevole come anche la finale di Champions League. Noi comunque ci saremo, ci siamo stati, non ci dividiamo dai colori e dalla maglia del torno. Quindi ovvio sarebbe bello venire qua e avere un attimo una competizione europea, però va bene, per il momento va bene così. Speriamo. Siete curiosi di ascoltare questa sera You Never Walk Alone? La pelle d'oca sicuro. La pelle d'oca? Però sono convinto che tante anche squadre quando vengono al Grande Torino dovrebbero avere la pelle d'oca quando sentono cantare la maratona. Grazie a tutti.